Come state? Scusatemi. Allora. Ciao a tutti, sono Albero. Che dite? Non avete capito come mi chiamo? Aspettate, mi presento meglio. Mi chiamo Albero e sono un albero. Il comune Albero che voi conoscete, come tutti quelli che avete già visto. Un albero, solo quello. Come state? Ah, io male. Male. Perché un albero non può stare male? Pensate che non possa succedere qualcosa di così brutto e grave da farlo stare male? Ecco, questo è il problema. La cosa più grave è che voi umani non ve ne accorgete neanche. Non vi accorgete del male che ci fate, delle vostre azioni. Ma cosa volete che sia? In fondo siamo solo alberi. Insomma, il nostro legno vi serve. Per fare la carta, i mobili di casa e chissà quante altre cose. E in più occupiamo il vostro spazio. Sì, occupiamo lo spazio che vi serve per costruire nuovi palazzi. Perciò, mi sembra ovvio che voi ci dobbiate scortecciare, potare, abbattere, incendiare. Insomma, siamo solo alberi. Siamo noi il problema. O forse il contrario. Continuate pure. Che sarà mai? La verità è che vi diverte vederci sotto tortura e vedere gli animali morire, soffrire, piangere, cercare aiuto. Continuate a fare tutto questo per le vostre stupide attività economiche. Per accumulare sempre più soldi, ci distruggete. Non avete ancora capito che anche noi abbiamo sentimenti. Anche noi siamo esseri viventi. Anche noi soffriamo. Provate a mettervi nei panni nostri. Siamo stufi. Ogni anno vengono disboscati più di 13 milioni di ettari di foresta. Ogni anno parte del mondo se ne va assieme a tutti quegli animali che senza di noi non possono vivere. Come fate a vederci bruciare? Come fate a distruggere la vostra casa senza ventirvi? Come fate a vedere quegli animali cercare aiutori più morire e soffocati dal fumo dell'incendio? La verità è solo una. Siete così ossessionati dai soldi che per quelli fareste di tutto. Anche distruggere il pianeta in cui abitate. La vostra è la nostra casa. E intanto noi soffriamo. E intanto io vorrei avere una cocca per parlare, per gridare. Vorrei avere delle gambe per scappare. Vorrei avere il coraggio per incolparvi, per farvi pentire, per farvi capire. Vi invito a ragionare su questo. A provare ad andare a dormire la notte e sognare di essere me. Me disperato in un incendio. Vorrei provarsi a mettervi nei panni di un animale. Qualunque sia. Vorrei provarsi ad immaginare di essere il fuoco, il fuoco ardente, che forse neanche voleva attaccarci. E vorrei, infine, che provarsi a ritornare in lui e a capire che qui siete gli unici dati. Grazie. 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 Grazie.